Siamo veramente molto soddisfatti di questa edizione, abbiamo avuto una grande affluenza di clienti in tutti e tre i giorni della manifestazione. Per noi è stato un evento importante anche per la presentazione di modelli importanti come per esempio il primo Citaro completamente elettrico che abbiamo presentato durante il nostro evento a Misano. La partecipazione è stata importante, tutti i clienti più importanti ci sono venuti a trovare e hanno potuto apprezzare la qualità come sempre dei nostri prodotti.